Rinvii su rinvii, lo sport prende tempo cercando di far sfogare la pandemia. Il modello sembra quello tedesco, che da tradizione in gennaio manda in letargo gli sport all'aperto. Solamente che loro lo fanno per preservare atleti, spettatori e spettacoli in generale dalle temperature gelide dell'inverno germanico. In Italia, nel 2022, il problema è sanitario, non climatico. E allora tutto quello che doveva cominciare nei primi giorni di gennaio è scalato verso la seconda metà del mese. Con la sensazione, conoscendo ormai le consuetudini degli ultimi due anni, che probabilmente ci saranno ulteriori proroghe. Considerando solamente le compagini biellesi, anche il basket dalla Serie C in giù ha dovuto posticipare il rientro dalle festività natalizie. Il Consiglio regionale della FIP ha debitamente valutato la situazione pandemica e l'aumento dei casi di positività tra i tesserati delle società piemontesi. La decisione, avallata nelle scorse ore, è quella di prolungare la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali a calendario dal 10 al 20 gennaio 2022 compresi. Una prima decisione, maturata nel cuore delle festività, aveva già cancellato tutto il programma calendarizzato fino al 10. Il Dean's Basket, quindi, vede slittare il doppio impegno casalingo che sulla carta avrebbe dovuto aprire il 2022. Dopo il match con Rivarolo, programmato inizialmente per domani, 8 gennaio, Coach Cardano e i suoi ragazzi possono stare certi che non scenderanno in campo nemmeno sabato prossimo, il 15, quando avrebbero dovuto incrociare le lame contro Savigliano. Le gare non disputate saranno recuperate in coda ai calendari pubblicati, seguendo la sequenza originale. Le formule, così come definite all'inizio dell'anno sportivo, resteranno tali salvo piccole variazioni che saranno comunicate a breve dall'ufficio gare. Intanto, lo stesso Teens è tornato a sudare sul parquet del forum, per quella che sembra sempre di più una preparazione 2.0, considerando tempistiche e lungaggini. Dopo la tempesta, si ritorna in campo, si legge sui canali social della società, peraltro ampiamente impegnata anche nel minibasket. La sensazione, però, è che la tempesta di cifre, dati, tamponi e protocolli sanitari sia tutt'altro che finita.